Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Juventus-Milan 4-0 Partito che si è conclusa adesso allo Stadio Olimpico di Roma Siamo campioni per la quarta volta consecutiva Ce lo sono pure meritato perché abbiamo giocato benissimo Dove complimenti al Milan per averci provato però non ce l'ha fatta Avevo preparato 1-0 Però non è successo 1-0, è finita 4-0 I complimenti do al Milan per averci provato Però do i grandissimi complimenti alla Juventus per aver provato Per aver dato e per aver segnato 4 gol Che stamattina quando mi sono svegliato non me lo sarei mai aspettato Questo fa vedere che siamo forse la squadra più forte d'Italia La Roma e il Napoli non arriveranno mai a questo livello Ci vorrà un sacco di pratica per avere a questo livello Comunque abbiamo vinto il primo trofeo della stagione La Team Cup Adesso dobbiamo vincere nel nostro stadio contro la Roma Se vinceremo quello abbiamo vinto il campionato pure E poi ci sono le pre-season friendly contro il Madrid Il Bayern Monaco e il Sivilla Comunque scrivete nei commenti i vostri commenti sulla sua partita Penso che questa partita sarà la migliore partita che abbiamo visto A settembre con la squadra abbiamo perso 2 a 1 contro la Lazio Non me lo sarei mai aspettato di arrivare a questo livello Poi ci fa vedere che la Juventus non importa quanto fa schifo all'inizio di stagione Può fare sempre qualcosa di magico Comunque vi faccio con quelli qui Grazie a tutti per aver guardato forza Juventus